E' arrabbiato e scoraggiato Michele Vitali dopo che nella notte tra domenica e lunedì il suo allevamento di agnelli ha subito l'attacco dei lupi che hanno fatto una vera e propria strage. Come ogni mattina intorno alle 6 lui e la madre iniziano a dar da mangiare agli animali ma appena arrivati nei pressi della stalla hanno fatto la mara scoperta. Io per carità il lupo, gli animali tutti sanno dal topo a quel che è, per carità, però che il lupo va bene a fare un lavoro così che la nostra economia no. Siamo nell'azienda agricola di Michele Vitali a Pozzuolo, qui i lupi l'altra mattina hanno attaccato il suo recinto dove teneva i vitelli e gli agnelli e quindi insomma c'è stata una strage praticamente. Grande scoramento proprio da parte dell'allevatore per questo terzo attacco in poco meno di un anno e mezzo. Michele, questi erano capi pronti per la vendita, quindi oltre al danno così morale c'è anche quello economico. C'è quello economico e anche quello dei clienti che avevano scelto purtroppo il loro agnello perché questi stagnelli sono tutti numerati secondo la famiglia che li doveva prendere e anche loro si trovano adesso in difficoltà che non hanno da sacrificare l'agnello per la loro Pasqua. Il problema però non è dell'ultima ora, tu hai subito altri attacchi dai lupi. Io non ho subito gli altri due, hanno attaccato i somari, che ho anche i somari e hanno attaccato le pecore. Sono entrati dentro, qua ci sono i cancelli da circa un metro, un metro e venti, hanno saltato i cancelli e sono entrati dentro, lì c'è circa 80. Poi hanno cominciato a fare la strage, loro dentro perché tutti gli animali da circa 60 kg, hanno riusciti a buttare il cancello, sono usciti e fuori hanno fatto quello che si sta vedendo, li sto caricando e si vede quel che è successo. E gli altri sono rimasti un po' in giro, messi barcollanti. Tu ti sei rivolto un po' alle autorità, agli enti per cercare di avere un minimo? Sono rivolto anche l'altra volta, le volte precedenti, però niente. Il risultato è che se vedono in giro un lupo che gli fa male il dente, che la mia pecore era dura, si arrabbiano con me perché il lupo si è fatto male al dente. E quello è il fatto. Tu adesso stai meditando anche di lasciarla un po' questa tipologia di allevamento? No, bisogna lasciarla perché fuori, a parte fuori, erano dentro, un po' fare le carceri perché fuori dentro non dentro, a parte che era fare le persone, però per gli animali no. No, quando è in chiusa, non c'è più dentro e c'è una porta che ne escono, che magari vanno fuori di notte, basta. Invece tocca fare le stalle come si deve, le lasci fuori. Poi queste qui sono le 5-5 mesi di mattina, al momento perché il giorno è caldo, loro mangiano la mattina, se uno le fa mangiare alle 7 non mangiano più. Perciò si dà da mangiare, quant'è le 5? Lì, l'ora lì, infatti sono venuto giù alle 6 e mi sono trovato, che c'è? Stanotte hai dormito qua? Stanotte ho dormito qua, proprio qui, dove siamo adesso. In caso che ho l'oro, una volpe o qualcosa, me la riprendevo per farvela vedere. 2 euro ho da gi al mattatoio, prendi un camion.